Buonasera amici, buonasera ragazzi, come state? Parliamo della guerra dei cent'anni seconda parte, ricordate la scorsa video lezione, l'avete vista? Abbiamo visto la prima parte della guerra dei cent'anni che è piuttosto lunga, quindi dedichiamo due lezioni a questo. Abbiamo visto che dopo un periodo iniziale, i primi decenni del tutto favorevole all'Inghilterra, le sorti della guerra si ribaltano, diventano favorevoli alla Francia. Questo però finché il re di Francia Carlo VI, che vi ricordo appartiene alla dinastia dei Valois, inizia a dare segni di squilibrio mentale e nel 1392 ben presto non sarà in grado di riconoscere nessuno, non sarà in grado, insomma, di intendere e di volere. La follia di Carlo VI, l'erroi fou, lo chiamano in Francia, il re folle Carlo VI. Vi ricordo che sul trono d'Inghilterra, a dirigere la guerra, c'è Enrico V, Enrico V di Lancaster. Valois in Francia, Lancaster in Inghilterra, sono le due dinastie che si fronteggiano in questa lunga guerra. Cosa succede? Succede che la follia di Carlo VI getta la Francia nel caos. I più eminenti signori della Francia, gli aristocratici più importanti, anche i parenti del re, invece di trovare una soluzione unitaria, anche perché si trattava di un periodo di emergenza, c'era la guerra con gli inglesi sul territorio francese, Invece di trovare una soluzione unitaria, si dividono, nessuno dei grandi aristocratici se la sente, si sente di prendersi la responsabilità di deporre il re folle Carlo VI, si dividono e scoppia una guerra civile per la successione a Carlo VI. Ci sono due parenti, due grandi aristocratici francesi che lottano tra loro con i rispettivi eserciti, le rispettive forze, ovviamente questo è un disastro per la Francia, la Francia sprofonda in una guerra civile, proprio durante la guerra dei cent'anni contro l'Inghilterra. D'accordo? Questi due contendenti al trono, che creano appunto i loro eserciti privati, si scontrano, sono il duca di Orlean, che è il fratello del re folle Carlo VI, e il duca di Borgogna, che invece è comunque un parente, sia pure abbastanza lontano di Carlo VI. D'accordo? Si dividono proprio in due fazioni, i seguaci del duca di Borgogna si chiamano Borgognoni, e questo, diciamo, è normale, però i seguaci del duca di Orlean non si chiamano orleanisti, ma vengono chiamati Armagnacchi, non so se vedete, ho scritto un po' piccolo, ma c'è una buona definizione, vengono chiamati Armagnacchi, perché questo? Perché gli orleanisti vengono chiamati Armagnacchi? Dal nome del conte di Armagnacchi, che era il loro capo, uno dei loro capi militari, dal conte di Armagnacchi, con una sola C, alla fine, secondo altri storici, vengono chiamati Armagnacchi per via del castello di Armagnacchi, e comunque appunto, ovviamente, apparteneva al conte di Armagnacchi. Quindi Armagnacchi, seguaci del duca d'Orlean, contro Borgognoni, seguaci del duca di Borgogna. Fate attenzione, il duca di Borgogna aveva uno stato molto potente, molto molto potente. La Borgogna, per un certo periodo, rivaleggiò con la Francia. Se le cose fossero andate diversamente, chissà, la Borgogna avrebbe proprio preso il posto della Francia, avrebbe conquistato la Francia, o comunque sarebbe continuata ad esistere come un regno molto grande in competizione con la Francia. Il duca di Borgogna si era formato non molto tempo prima, eh? Filippo Lardito, vedete in questo riquadro, vi ho indicato i nomi dei primi tre duchi di Borgogna. Filippo Lardito aveva appunto ricevuto come feudo il duca di Borgogna da un precedente re francese. Filippo Lardito, il primo duca di Borgogna, dal 1363 al 1404. Quindi, abbiamo visto che in realtà è lui che inizia la guerra civile, cioè è lui il primo duca di Borgogna che si scontra con il duca d'Orlean. Però, particolarmente importante, è il secondo duca di Borgogna, Giovanni Senza Paura. D'accordo? Giovanni Senza Paura è il duca di Borgogna dal 1404 al 1419. Ok? Adesso parleremo di lui. Il terzo duca di Borgogna che ci interessa per la nostra storia è Filippo il Buono. Filippo il Buono, duca di Borgogna, regna dal 1419 al 1467. La cosa importante da dire è che la Borgogna, vi ho messo qua un riquadro, immaginate che sia una sorta di carta geografica. La Borgogna è qui, diciamo, al centro-nord della parte orientale della Francia, proprio al confine con la Germania. D'accordo? B è il ducato di Borgogna. Lo vedete qui? Capitale di Gione. Digione. La Borgogna, nel corso degli anni, per via di una politica matrimoniale, perché i duchi di Borgogna sposavano delle principesse attraverso cui si impossessavano di territori, incredibilmente era riuscito, partendo da un piccolo feudo agricolo povero come la Borgogna, a conquistare tantissimi territori. Quindi il ducato di Borgogna si era espanso. Questo, attenzione, già prima dello scoppio della guerra civile. D'accordo? La Borgogna aveva conquistato la zona che si trova a est della Borgogna. Vedete, ho scritto FC, la Franca Contea, capitale Besançon. Besançon, sapete, con la C, con la Cediglia. Besançon. Quindi la Borgogna aveva conquistato la Franca Contea, che peraltro è un territorio che appartiene all'impero germanico, al sacro romano impero degli imperatori germanici. Non solo la Borgogna aveva conquistato il Lussemburgo, vedete qua Lus, ma soprattutto la Borgogna aveva conquistato l'immensa e ricchissima regione delle Chiandre. Ricordate, abbiamo ripetuto a scorsa lezione, come tante altre volte, che le Chiandre era una delle zone più ricche d'Europa, con tantissime industrie tessili. Certo, questi territori mancavano un po' di continuità territoriale, però erano territori ricchissimi, in particolare le Chiandre. Ricordate che all'inizio della guerra dei Cent'anni, le Chiandre erano sottomesse al Duca di Chiandre, che a sua volta era un vassallo del re di Francia. Adesso i duchi di Borgogna erano riusciti a impossessarsi delle Fiandre. Quindi la Borgogna possedeva la Borgogna storica, cioè la Borgogna vera e propria, ma anche il territorio della Franca Contea, a est della Borgogna. Poi più al nord di Lussemburgo, e diciamo al nord del Lussemburgo le Fiandre, attuali Belgio e Olanda. Quindi il ducato di Borgogna, che all'inizio era piccolo piccolo, era diventato un regno potentissimo. Ricchissimo, d'accordo? Cioè l'industria della lana nelle Fiandre era proprio l'attività più ricca, più redditizia d'Europa. Il problema è che questi territori mancavano di continuità territoriale. Vabbè, Lussemburgo, ok, va bene, confina con le Fiandre. Però Borgogna e Franca Contea no, capite? Tra Borgogna e Franca Contea e Lussemburgo c'è la Lorena, capitale Nanzi. La Lorena non apparteneva al ducato di Borgogna. Comunque il ducato di Borgogna è molto, molto forte. Scende in lizza in questa guerra civile perché appunto il ducato di Borgogna, il ducato di Borgogna vuole prendersi la Francia, vuole ereditare lui la Francia. Che cosa succede? Succede che Filippo Larrito muore, la guerra civile viene portata avanti, il capo di Borgogna contro gli Armagnacchi, contro i seguaci del duca d'Orlean, da Giovanni Senza Paura, che abbiamo visto, 1404-1419. Giovanni Senza Paura nel 1407, vi ho messo una croce, riesce a uccidere il duca d'Orlean. Ha una grave responsabilità per la rigenerazione di questa guerra civile. Filippo Larrito, duca di Bologna, nel 1407 riesce a uccidere il suo antagonista, cioè il duca d'accordo, il duca di Orlean. Ovviamente questa guerra civile indebolisce, devasta la Francia ed è un grande, un grande, una grande, un grande aiuto, una grande opportunità nella guerra per l'Inghilterra, d'accordo? Nel 1415, per l'ennesima volta, ricordate che era avvenuto ben due volte in passato, nel 1415, per l'ennesima volta, un esercito inglese sbarca sul suolo francese, d'accordo? Nel 1415. La Francia, guidata dal re Folle, accetta la battaglia in campo aperto. Ricordate che prima del re Folle, Carlo VI, il precedente re Carlo V, fece propendere le sorti della guerra per la Francia, non accettando scontri in campo aperto. E invece abbiamo la battaglia, la battaglia di Asincourt, d'accordo? Asincourt, si scrive Asincourt, si legge Asincourt. La battaglia di Asincourt è anch'essa esattamente identica a quelle di Cressy e di Poitiers. Vi ricordate, nella lezione precedente, i soliti arcieri inglesi infilzano i cavalli della nobiltà francese, che poi cadono da cavallo, vengono uccisi dalla fanteria inglese. Insomma, è un vero e proprio disastro, ma è proprio una fotocopia identica di due battaglie che la Francia aveva già perso nella prima fase della guerra. Ricordate, Cressy e Poitiers, cioè questa disastrosa sconfitta di Asincourt, la situazione della Francia, si fa molto molto difficile. Si fa difficile anche perché abbiamo un vero e proprio tradimento da parte del Duca di Borgogna nei confronti del re di Francia. È vero che il re di Francia è pazzo, Carlo VI, però insomma si tratta comunque di un tradimento. Che succede? Giovanni senza paura, fate molta attenzione, muore nel 1419, ok? Il nuovo Duca di Borgogna, come abbiamo visto, è Filippo il Buono. Regna per un periodo lunghissimo, dal 1419 al 1467. Filippo il Buono rinuncia a pretendere il trono di Francia e passa dalla parte degli inglesi, che ovviamente gli hanno promesso ulteriori guadagni territoriali. Quindi la Francia si trova in una situazione gravissima. non soltanto ha perso la grande battaglia di Asincur, 1415, ma quattro anni dopo la potentissima Borgogna, con Filippo il Buono, si allea col suo nemico, cioè con l'Inghilterra. Per la Francia non c'è proprio nulla da fare. La Francia capitola e nel 1420 firma una pace con l'Inghilterra, un trattato di pace veramente umiliante, il trattato di Troyes. Attenzione, si scrive Troyes con la Y, però si legge Troyes, d'accordo? Il trattato di Troyes. Il trattato di Troyes è umiliante e devastante per la Francia. Cosa dice il trattato di Troyes? Che Enrico V, no, il re d'Inghilterra, Enrico V, diventa il reggente di Francia. Cioè praticamente Enrico V, qual è la scusa perché Enrico V possa diventare il reggente di Francia? Capite? Il reggente di Francia ha un posto del re folle Carlo VI. Cioè Carlo VI affida il regno di Francia al re d'Inghilterra. Enrico V. La scusa qual è? Enrico V ha sposato una principessa francese, d'accordo? Una figlia del re Carlo VI. E quindi voi sapete che per via femminile, ricordate la legge Salica, non avrebbe potuto ereditare il trono. È una cosa molto discutibile. Non solo, ma come vedremo, Carlo VI aveva un figlio maschio. Quindi è una cosa molto discutibile che Carlo VI in qualche modo disconosca suo figlio, lo diseredi e in qualche modo capite adotti, adotti come figlio Enrico V Lancaster, il re d'Inghilterra. Ma così succede. Enrico V naturalmente è solo una scusa che non ha un vero fondamento giuridico, il matrimonio di Enrico V con la principessa francese. È il fatto che l'Inghilterra ha vinto in battaglia, la Francia è ormai sottomessa. Nel 1420 il trattato di Troyes stabilisce che Enrico V d'Inghilterra diventa il reggente a Parigi del regno di Francia e stabilisce incredibilmente, attenzione, che alla morte di Carlo VI, il re folle, Enrico V di Lancaster, il re d'Inghilterra, diventerà re di Francia. Queste sono le condizioni disastrose del trattato di Troyes. Quindi il re d'Inghilterra, il regno d'Inghilterra, sembra essere a un passo dall'ottenere l'obiettivo, ricordate, che aveva fatto scoppiare la guerra all'inizio. Cioè ricordate la successione del regno del re d'Inghilterra sul trono di Francia. Enrico V, in base al trattato di Troyes, avrebbe avuto bisogno solo di aspettare la morte di Carlo VI, poi avrebbe ereditato la Francia. D'accordo? Quindi l'obiettivo iniziale del re d'Inghilterra, di un altro re d'Inghilterra, ve lo ricordate, ma comunque in generale del re d'Inghilterra, chiunque sia, quello di unire l'Inghilterra e la Francia, di far sì che il re d'Inghilterra diventi anche re di Francia, si sta apparentemente per realizzare. Fate attenzione, poco dopo il trattato di Troyes, succede, attenzione, che sia il re folle Carlo VI, sia il re Enrico V d'Inghilterra, Lancaster, muoiono. D'accordo? Muoiono quasi contemporaneamente. Che cosa succede allora? Carlo VI e Enrico V sono morti quasi contemporaneamente. Viene messo in pratica, viene applicato il trattato di Troyes? Sì, viene applicato nel 1422, semplicemente che, semplicemente al posto di Enrico V, che è morto, capite, viene proclamato re di Francia suo figlio, cioè Enrico VI di Lancaster. Il problema è che Enrico VI di Lancaster ha soltanto un anno. E quindi, ovviamente, ci sono i reggenti al suo posto. Tuttavia, il trattato di Troyes viene applicato. D'accordo? Nel 1422, morto Carlo VI di Valois, incredibilmente, Enrico VI di Lancaster, succeduto al trono a solo un anno di età, diventa anche, oltre che re d'Inghilterra, re di Francia. Non solo, ma nel 1422 si precisano meglio i compensi territoriali che il trattato di Troyes, due anni prima, aveva garantito all'Inghilterra. Non solo il re d'Inghilterra, Enrico VI, Lancaster, diventa anche re di Francia. Il regno d'Inghilterra, Enrico VI, re d'Inghilterra, si prende, vi ricordate che già aveva in Francia la grande Aquitania, aveva conquistato nella prima fase della guerra, l'Inghilterra, enormi territori a sud-ovest della Francia. Adesso l'Inghilterra si prende anche tutta la parte settentrionale della Francia, compresa Parigi. D'accordo? Compresa Parigi. Quindi, buona parte del territorio della Francia adesso viene annesso dall'Inghilterra. La Francia si trova quindi in una situazione disperata. sembra che debba esserci un'unione tra Francia e Inghilterra, un'unione dinastica sotto un solo sovrano. Eppure, attenzione, c'è qualcuno che non si arrende. È il figlio del re folle, che si chiama anche lui Carlo. È il terzo re francese di seguito che si chiama Carlo. Però, attualmente, in questo momento, Carlo non è ancora Carlo VII, vorrebbe diventare Carlo VII di Francia. Carlo, dice, il trattato di Truano non è valido, come abbiamo visto. Io sono l'erede maschio del re folle Carlo VI. Io ho diritto ad essere il nuovo re di Francia. D'accordo? Non quell'usurpatore di Enrico V e poi suo figlio Enrico VI, che è diventato re, Enrico VI di Inghilterra. Carlo VII, quindi, non si arrende all'interno di un territorio che è a sud della Francia, a sud del fiume Loira, anima la resistenza. D'accordo? La resistenza contro gli inglesi e pretende di essere riconosciuto Carlo VII. Fate attenzione. All'inizio, questa riscossa di Carlo, di Valois, che vorrebbe diventare Carlo VII, riconquistare la Francia, cacciare gli inglesi, è una resistenza poco convinta e che comunque non riesce ad ottenere praticamente alcun risultato. Ma l'aiuto arriva dalla provvidenza, un aiuto per chi ci crede sovrannaturale. Giovanna d'Arco, tutti conoscono Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco veniva chiamata Giovanna di Lorena. Chi è Giovanna d'Arco? Giovanna d'Arco era un'umile, semplice, analfabeta, contadina della Lorena. D'accordo? Lei dice di aver avuto delle visioni divine. D'accordo? Dio, oppure un arcangelo, ok? Le appare e le dice tu hai una missione, hai un compito speciale, devi metterti a capo dell'esercito francese, Dio è con te, Dio è con la Francia, Dio attraverso te farà vincere la guerra. Una contadina semplice, analfabeta, pensate, era un adolescente. Giovanna d'Arco nel 1429 aveva soltanto 15 anni. Ha delle visioni, sostiene che Dio, attraverso lei, farà vincere la Francia. Perché? Perché Dio ha trovato una contadina virtuosa, che rappresenta in qualche modo il popolo della Francia e quindi ha deciso di sceglierla d'accordo come sua messaggera, come che lei che viene investita nella missione di far vincere la guerra per grazia di Dio alla Francia. Dio ha scelto la Francia e non all'Inghilterra. No, l'Inghilterra perché? Perché ha trovato la bontà, la virtù di questa contadina semplice, molto virtuosa, molto religiosa, illibata, d'accordo, vergine, che morirà vergine e così via. Quindi uno può anche credere al sovrannaturale, al fatto che Giovanna d'Arco aveva delle visioni divine. Uno può anche non crederci, non importa naturalmente, l'importante è quello che credevano all'epoca, quello che succede, i fatti. Giovanna d'Arco si reca presso l'esercito francese e si presenta al re che la manda via, pensa che sia una pazza, questa quindicenne analfabeta, questa contadina, viene, dice che vuole comandare l'esercito francese. Giovanna d'Arco non si perde d'animo, inizia ad arringare, a fare dei discorsi all'esercito francese, discorsi infuocati, discorsi di incoraggiamento. L'esercito francese le crede, crede che lei sia arrivata lì per portarli alla vittoria. Incredibilmente, qui la storia si confonde con la leggenda, Giovanna d'Arco a cavallo con l'armatura prende il comando dell'esercito francese, se non proprio il comando assoluto, combatte comunque insieme all'esercito francese le sue rivelazioni divine, i suoi discorsi, hanno galvanizzato i soldati francesi, hanno dato loro coraggio, hanno dato loro speranza, c'è l'aiuto soprannaturale, Dio ha mandato questa contadina, Dio ha scelto questa contadina per farci vincere la guerra, d'accordo? Giovanna d'Arco proprio ribalta la situazione della guerra, Giovanna d'Arco opera soltanto per due anni, dal 29 al 31, però in questi due anni l'esercito francese ottiene numerose vittorie contro gli inglesi, in particolare viene conquistata la città di Reims, di Reims, attenzione, Reims è una città santa, è una città molto importante, perché è la città dove venivano incoronati i re, infatti dopo la presa di Reims, Carlo si fa incoronare solennemente Carlo VII, d'accordo? Si fa incoronare re di Francia, dando quindi coraggio e speranza a tutta quella parte della Francia che ha deciso di seguirla. Poi Giovanna d'Arco si distingue nell'assedio e nella conquista di Orléans, d'accordo? per questo a volte viene chiamata la pulzella d'Orlean, è un nome che è rimasto attaccato, la pulzella, sapete cos'è la pulzella? La pulzella è una vergine, d'accordo? Una vergine, appunto, secondo la leggenda Dio l'avrebbe scelta perché avrebbe trovato in lei la virtù, la castità, la devozione, la verginità, una contadina semplice ma assolutamente non corrotta, la pulzella, la pulzella d'Orlean. Molti pensano quindi errando che Giovanna Giovanna d'Arco sia originaria di Orlean perché è rimasta nella storia come la pulzella d'Orlean. Abbiamo visto che non è così, lei è di un paesino della Lorena che è molto lontano di Orlean, si chiama la pulzella di Orlean perché lei ha aiutato l'esercito francese a conquistare Orlean, ok? L'esercito francese inizia a ribaltare le sorti della guerra, gli inglesi sono in grossa difficoltà, d'accordo? Sono in grossa sono in grossa difficoltà. Succede però che Giovanna d'Arco sia catturata dagli inglesi nel 1431 e a soli 17 anni viene bruciata sul rogo con l'accusa di essere una strega. naturalmente gli inglesi volevano semplicemente liberarsi di una figura simbolica che insomma stava portando la Francia alla riscossa quindi gli inglesi la bruciano viva a 17 anni soltanto finisce l'avventura di Giovanna d'Arco che comunque secondo molti o secondo la leggenda sarebbe stata proprio l'elemento fondamentale che spiega la vittoria finale della Francia d'accordo e naturalmente è vero è falso al di là del soprannaturale Giovanna d'Arco è davvero una figura leggendaria di cui si sa poco ci sono storici che sostengono che non sarebbe mai esistita ci sono altri quindi sarebbe una figura proprio mitica ci sono altri storici che sostengono che la vera Giovanna d'Arco fosse un'aristocratica che Giovanna d'Arco poi appunto guida l'esercito francese a cavallo ma un'umile contadina non sapeva cavalcare però se crediamo al soprannaturale può essere tutto accettabile lei miracolosamente si mette sul cavallo e sa cavalcare ok secondo alcuni quindi sarebbe stata un'aristocratica e non una contadina secondo altri appunto secondo altri anche addirittura non sarebbe mai stata catturata e bruciata dagli inglesi sarebbe morta e secondo alcuni storici ci sarebbe anche la tomba alcuni storici indicano una tomba dicendo che è quella di Giovanna d'Arco quindi la faccenda non è chiara potrebbe anche non essere esistita potrebbe essere una storia che è stata modificata d'accordo che è stata trasformata tuttavia non è importante questo importante è proprio la figura leggendaria di Giovanna d'Arco che sia vero o meno che sia vero o meno tutta la storia non importa Giovanna d'Arco è un simbolo che diventa una leggenda è una figura archetipica sapete che vuol dire una figura archetipica è un archetipo un simbolo rappresenta la Francia l'idea è che la Francia abbia salvato la propria indipendenza la propria esistenza riuscendo a sconfiggere l'Inghilterra che invece stava vincendo fino a poco tempo prima grazie a Giovanna d'Arco grazie a questo intervento soprannaturale d'accordo Giovanna d'Arco infatti sarà assunta a simbolo della Francia non proprio da tutti i francesi ma dalla parte diciamo più cattolica più tradizionalista più conservatrice Giovanna d'Arco rappresenta l'idea che la Francia diventa un paese nazionale moderno si libera degli inglesi vince la guerra perché perché l'ha voluto Dio cioè la Francia moderna si costituisce sorge in base a una scelta che Dio ha fatto la scelta di favorire la Francia di farla vincere in questa guerra scegliendo la Francia e non l'Inghilterra essendo stato colpito Dio dalla purezza dalla virtù dalla castità di questa pulsella quindi la Francia quali radici profonde avrebbe avuto d'accordo? le radici del cattolicesimo dell'intervento divino quindi molti dicono appunto la parte conservatore cattolica della Francia la vera Francia la nascita della Francia è la Francia delle cattedrali delle cattedrali gotiche la Francia che appunto è nata grazie a un miracolo a un intervento soprannaturale quindi la Francia sarebbe strutturalmente un paese cattolico un paese che si afferma come monarchia nazionale moderna grazie all'intervento divino d'accordo? Giorno d'Arco non è un simbolo di tutti i francesi e Giorno d'Arco diventa un simbolo della Francia soprattutto di una parte della Francia soltanto nell'ottocento perché viene esaltata come tale come simbolo della Francia dai nazionalisti ottocenteschi d'accordo? da alcuni personaggi da alcuni politici da alcuni scrittori del 1800 tuttavia c'è anche una parte della Francia che non ha mai amato Giovanna d'Arco la Francia laica la Francia illuministica la Francia della rivoluzione francese per loro per questi per questa parte della Francia Giovanna d'Arco è un simbolo da rigettare perché appunto è un simbolo soprannaturale è un simbolo è l'emblema in qualche modo del cattolicesimo di Dio ovviamente la parte laica della Francia non accetta che le radici della Francia possano essere sovrannaturali Voltaire il grande illuminista presi addirittura in giro con il suo noto sarcasmo presi addirittura in giro Giovanna d'Arco proprio nel poema epico molto divertente sarcastico che si chiama La pulsella d'Orlean quindi questo nominio è rimasto attaccato anche perché Voltaire ha dedicato a lei un suo poema sarcastico La pulsella d'Orlean Voltaire prende in giro in tutti i modi Giovanna d'Arco i miracoli i presunti miracoli le visioni che lei aveva d'accordo perché Voltaire il riverente lo sapete era anticlericale era anticristiano e quindi a lui Giovanna d'Arco e il suo mito non piacevano affatto Voltaire arriva a dire a fare un'ironia insomma piuttosto spinta cioè Dio ha scelto la Francia invece dell'Inghilterra perché perché Giovanna era vergine era virtuosa evidentemente dice Voltaire insomma non poteva trovare una contadina inglese invece che una contadina francese e Voltaire ironizza anche in maniera appunto forte a sfondo sessuale dice cioè con la sua tipica ironia dice evidentemente Giovanna d'Arco era vergine era virtuosa evidentemente le contadine francesi le ragazzine francesi le contadine e le ragazzine della campagna erano virtuose erano devote erano illibate erano vergini mentre invece forse le contadinotte inglesi capite erano più libertine così Dio non trovava delle vergini all'interno delle contadinotte inglesi vabbè ovviamente è l'ironia di Voltaire che però prende in giro Giovanna d'Arco tutta la sua vicenda e tutti i suoi sostenitori tant'è che Voltaire fu odiato già già lo era per tanti altri motivi il reverente Voltaire ovviamente fu odiato dalla maggior parte della Francia perché osava capite ironizzare prendere in giro dissacrare offendere insultare un simbolo della Francia cattolica tradizionale appunto Giovanna comunque Giovanna è un archetipo è il simbolo della nascita della Francia come vero stato moderno come forte monarchia nazionale ognuno dei suoi archetipi ovvio essendo nel 1400 magari l'archetipo è un personaggio mitico un personaggio che si perde nella notte dei tempi perché siamo nel 1400 magari in periodi in epoche più vicini a noi in epoche più moderne gli archetipi i simboli della nascita dell'indipendenza delle nazioni possono essere di tipo molto più diverso per esempio una figura archetipica della nascita della nazione italiana è Garibaldi anche lui viene mitizzato uno grande condottiero gli si attribuiscono magari cose eccessive ok viene un po' esaltato senza pensare ai suoi difetti no? in passato succedeva così no? che Garibaldi fosse al centro di un'esaltazione nazionalistica esagerata però ovviamente Garibaldi è una persona che è esistita in carne e ossa ed era un laico non era assolutamente un non era assolutamente una persona religiosa oppure un cristiano perché è chiaro che cambi l'epoca gli archetipi della nascita della nazione sono diversi gli archetipi della nascita degli Stati Uniti possono essere Washington oppure Jefferson d'accordo Washington Jefferson che chiaramente non hanno nulla a che fare con Giovanna d'Arco esprimono un altro tipo di cultura esprimono un altro tipo di ideologia però siamo nel 400 e quindi l'archetipo il simbolo della nascita della nazione il simbolo della guerra il simbolo dell'epopea che crea l'indipendenza nazionale non è un Garibaldi perché nell'800 Garibaldi ma è una figura mitica una contadina che ha delle visioni divine d'accordo è normale ogni archetipo alla base dell'epopea guerresca della nascita di una nazione ogni archetipo è diverso a seconda dell'epoca dell'ideologia dell'epoca ovviamente quindi comunque importanza anche proprio simbolica di Giovanna d'Arco come una delle proprio dei pilastri una delle proprio dei simboli della nascita della Francia come monarchia nazionale moderna che riesce a sconfiggere gli inglesi dopo la morte di Giovanna d'Arco la guerra continua d'accordo Carlo VI ottiene sempre più successi perché ottiene più successi anche perché attenzione nel 1435 Carlo VI si riappacifica col duca di Borgogna Filippo il Buono anni e anni prima si era schierato con gli inglesi adesso cambia idea Carlo VII gli dà in cambio qualche territorio Filippo il Buono da essere alleato con gli inglesi torna attenzione a essere alleato con i francesi ovviamente questo è un vantaggio molto la Francia perché abbiamo visto che la Borgogna il ducato di Borgogna di Filippo il Buono era molto molto ricco molto potente d'accordo molto ricco molto potente e quindi a iniziare nel 1435 aumentano sempre di più i successi francesi la guerra finisce nel 1453 diciamo che gli ultimi 20 25 anni di guerra vanno proprio a rilento a rallentatore gli inglesi ormai non hanno molte speranze di andare avanti nella guerra però la Francia diciamo che conclude la guerra molto molto lentamente ogni tanto cade una città ogni tanto c'è un assedio l'Inghilterra perde perde in maniera inesorabile ma perde appunto molto molto lentamente perde ogni tanto qualche territorio e ci vogliono vent'anni circa per concludere questa guerra la sconfitta definitiva degli inglesi a Bordeaux nella loro ricordate la possedevano gli inglesi la Guasconia o Guyenne vengono sconfitti anche a casa loro cioè a Bordeaux è l'ultima città importante che cade nel 1453 gli inglesi si arrendono e abbandonano l'Inghilterra la Francia ha vinto la guerra dei cent'anni ha sconfitto gli inglesi gli inglesi perdono tutti i territori che avevano in Francia e questo ovviamente rafforza enormemente il sovrano di Francia gli inglesi perdono tutti i territori che avevano in Francia non solo ovviamente quelli che avevano conquistato nel corso della guerra ma anche quelli che possedevano prima della guerra cioè è particolare ovviamente la Guasconia o Guayet Guyenne la regione atlantica del sud-est della Francia con appunto Bordeaux Guasconia e Guyenne ce l'avevano già da prima della guerra la perdono mantengono solo attenzione il porto di Calais che vi ricordate gli inglesi avevano conquistato nella prima fase della guerra tranne il porto di Calais un importante porto sulla manica di fronte all'Inghilterra tranne il porto di Calais i francesi perdono tutti i possedimenti scusate gli inglesi perdono tutti i possedimenti in in Francia così si conclude la guerra dei cent'anni nella prossima lezione cercherò di spiegarvi in maniera chiara esauriente complessa completa precisa perché la guerra dei cent'anni è alla base del rafforzamento sia della monarchia francese ma anche attraverso un'altra travagliata guerra che vedremo anche del rafforzamento della monarchia inglese che la guerra l'ha persa la guerra dei cent'anni è un elemento fondamentale per la nascita di due monarchie nazionali moderne fondamentali come la francia e l'inghilterra che diventano davvero due monarchie nazionali moderne dopo la guerra dei cent'anni e anche proprio a seguito della guerra dei cent'anni quindi parliamo della nascita delle monarchie nazionali moderne della francia e dell'inghilterra nella prossima lezione e poi parleremo anche della spagna della monarchia nazionale moderna in Castiglia e Aragona d'accordo e anche del portogallo quindi continuate a seguirmi dopo la guerra dei cent'anni la formazione la nascita come monarchie nazionali moderne di quattro stati importantissimi dell'Europa occidentale Portogallo Spagna Inghilterra e Francia vi saluto per ora grazie a tutti e arrivederci a tutti